Sono Marco Lambri, architetto e designer, responsabile del design del gruppo Piaggio. Il tema di quest'anno ci pone come designer al centro di un grande cambiamento. D'altronde abbiamo vissuto negli ultimi due anni, sulla nostra pelle, cosa significhi discontinuità. E secondo me, dalla discontinuità possiamo trarre grande ispirazione. Per questo noi designer, ma tutto il sistema design, siamo chiamati a contribuire in questo rinnovamento, in questa rigenerazione che è sicuramente fatta di idee, di oggetti, ma soprattutto di relazioni che secondo me sono forse quelle che contraddistinguono davvero il design italiano. Grazie.